Nella sesta giornata di campionato le aretine affrontano e vincono contro le pantere lombarde del Real Meda. Il match si è disputato al campo del centro sportivo calcistico Luciano Giunti di Arezzo. Al settimo l'Arezzo sblocca la partita con Zelli che su passaggio in verticale di Verdi segna il gol dell'1-0. È il primo in campionato per la numero 22 Amaranto. La prima fase della sfida tiene già un ritmo veloce con entrambe le squadre che si affrontano a viso aperto. Siamo al trentesimo quando c'è un intervento difensivo della numero 1 Amaranto Valgemigli che impedisce di fatto il pareggio. Il direttore di gara tira fuori il cartellino giallo per Tuteri al trentaquattresimo e al minuto successivo una parabola insidiosa di Zelli tenta in vano la rete del raddoppio ma niente di fatto. Nella ripresa il secondo gol delle ragazze di Mister Testini che porta la firma di Razzolini al sesto con un calcio poderoso su assist di Gnici. Insacca il pallone nella porta avversaria. Al ventisettesimo l'occasione gol con il pallonetto a portata avanti da Costantino. Non va in porto e nello stesso minuto è il Real Meda che rientra in partita grazie a Moroni. Una conclusione da fuori che scavalca Valgemigli a corcia le distanze. Intensissimi gli ultimi minuti di gioco durante i quali avviene anche un fallo violento su Lorieri. L'Arezzo rimane concentrata ed è terminata fino all'ultimo istante e il triplice fischio coincide con la quinta vittoria di fila per la squadra a retina. Le partite in casa solitamente non si vincono mai, sono difficili, succede raramente. Io ripeto faccio i complimenti alle ragazze perché oggi è al di là di qualche errore però si sono battute fino alla fine, hanno lottato, sono rimaste in partita fino alla fine in una partita che a un certo momento si era messa anche insomma in una maniera non piacevole perché loro hanno cominciato a spingere forte, abbiamo un po' sofferto oggi veramente però dobbiamo far tesoro di questo, sono state brave a saper soffrire, questo anche è un merito di una squadra che vuole provare a fare qualche risultato importante quindi io gli faccio i miei complimenti. Sotto l'aspetto del gioco credo che l'Arezzo abbia sempre disputato delle ottime gare, fa delle ottime prestazioni, è normale che a volte dobbiamo anche essere più bravi a gestire la palla e gestire anche il risultato quando la partita va in una certa direzione però le ragazze vanno capito, devono crescere, devono migliorare stare lì davanti comunque sia non è facile, cercheremo di fare il massimo come sempre facciamo tutte le domeniche ma sappiamo benissimo che è un girone veramente complesso, complesso per gli altri ma sicuramente anche per noi è veramente difficile. È sempre una bella giornata, poi il primo gol non si dimentica, sono veramente contenta sia del risultato che della prestazione della squadra in generale. Siamo scese il secondo tempo però ci stiamo lavorando.